Carissimi amici e amiche, con questo incontro riprende il lungo ciclo di catechesi bibliche dedicate al Vangelo II Giovanni, che ordinatamente aveva un orario e una location un po' differente perché era un incontro fondamentalmente come lo è tuttora, pensato per la formazione biblica dei miei cari figlioli della parrocchia reale, principalmente e secondariamente come sempre della più estesa e variegata parrocchia spirituale, quindi aveva un orario differente, una collocazione anche differente, però quest'anno parlando un pochino, confrontandosi un po' e vedendo anche alcune indicazioni arrivate, è parso opportuno optare almeno per gli incontri di formazione di questo genere per lo streaming, per tutti, essendo quindi lo streaming per tutti anche per me è preferibile, questo lo dico come piccola premissa per chi sta seguendo, collocarlo a quest'ora e quindi collocarlo a cadenza mensile insieme agli altri incontri variabili che cadono il mercoledì. Ora per circostanziarsi un po' dentro l'itinerario che stiamo compiendo ci troviamo nella seconda parte del Vangelo di San Giovanni, ossia in quello che per chi ha seguito le altre catechesi o per chi conosce già un po' il Vangelo si chiama tecnicamente il libro dell'ora che va dal capitolo tredicesimo fino alla morte di Gesù, quindi fino al capitolo ai capitoli 19 e 20 del Vangelo di San Giovanni, l'ora di Gesù e tutta la tensione del Vangelo di San Giovanni tende verso questo momento clou in cui il figlio di Dio deve immolarsi e soffrire per i suoi discepoli. Questa è la puntata, è l'incontro numero 15 e ci siamo fermati la volta scorsa nel capitolo sedicesimo che è quello ormai conclusivo del discorso di addio nel capitolo diciassettesimo di cui ci occuperemo presumibilmente questa sera, c'è la grande preghiera sacerdotale di Gesù. Però ci siamo fermati la volta scorsa all'ultima attribuzione di funzioni dello Spirito Santo, ecco, cioè quando verrà lo Spirito della verità vi guiderà la verità tutta intera perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Ci siamo fermati a questo che era il quinto, la quinta caratteristica dello Spirito Santo secondo ciò che Gesù afferma nel lungo discorso di addio e quindi riprendiamo la lettura, io leggerò adesso dal versetto 16 fino al termine, ovviamente da prima in italiano, poi vedremo se durante l'esegesi è il caso di fare qualche riferimento al greco e poi vediamo se riusciamo anche a completare questa sezione in modo tale che la prossima volta si può cominciare col capitolo diciottesimo la passione facendo anche la bellissima preghiera sacerdotale del diciassettesimo capitolo. Comincio la lettura dal versetto 16 quindi del capitolo 16. Un poco e non mi vedrete più, un poco ancora e mi vedrete. Allora alcuni dei suoi discepoli dissero tra loro che cos'è questo che ci dice un poco e non mi vedrete, un poco ancora e mi vedrete e io me ne vado al padre. Dicevano perciò che cos'è questo un poco di cui parla, non comprendiamo quello che vuol dire. Gesù capì che volevano interrogarlo e disse loro state indagando tra voi perché ho detto un poco e non mi vedrete, un poco ancora mi vedrete. In verità in verità io vi dico voi piangerete e gemerete ma il mondo si rallegrerà, voi sarete nella tristezza ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. La donna quando partorisce è nel dolore perché è venuta la sua ora ma quando ha dato alla luce il bambino non si ricorda più della sofferenza per la gioia che è venuta al mondo nuovo. Così anche voi ora siete nel dolore ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Quel giorno non mi domanderete più nulla, in verità in verità vi dico se chiederete qualche cosa al padre nel mio nome egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome, chiedete e otterrete perché la vostra gioia sia piena. Queste cose ve le ho dette in modo velato ma viene l'ora in cui non vi parlerò più in modo velato e apertamente vi parlerò del padre. In quel giorno chiederete nel mio nome e non vi dico che pregherò il padre per voi, il padre stesso infatti vi ama perché voi avete amato me e avete creduto che io sono uscito da Dio. Sono uscito dal padre e sono venuto nel mondo, ora lascio di nuovo il mondo e vado al padre. Gli dicono i suoi discepoli ecco ora parli apertamente e non più in modo velato, ora sappiamo che tu sei tutto e non è bisogno che qualcuno ti interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da Dio. Rispose loro Gesù. Adesso credete? ecco viene l'ora anzi è già venuta in cui vi disperderete ciascuno per conto suo e mi lascerete solo ma io non solo solo perché il padre è con me. Io ho detto questo perché abbiate pace in me, nel mondo avrete tribolazioni. Ma abbiate coraggio, io ho vinto il mondo. Bene, questo è il termine del capitolo 16 con cui si conclude il lungo discorso di addio cominciato appunto subito dopo la lavanda dei piedi nel capitolo 13 con l'annunzio, con l'addio e l'annunzio prossimo del tradimento di Giura. Ora in questa ultima sezione da notare alcune cose. Ricorre anzitutto più di qualche circostanza l'esortazione di Gesù a pregare il padre nel suo nome. Se noi facciamo attenzione per esempio soprattutto la liturgia su questa è una grandissima maestra non esiste preghiera liturgica o quasi che non sia sempre rivolta al padre nel nome del figlio. Le parole con cui il sacerdote conclude le preghiere per il nostro Signore Gesù Cristo tuo figlio che è Dio oppure per Cristo nostro Signore sono sempre una espressione di questo grande insegnamento di Gesù chiedere al padre nel suo nome raramente la liturgia rivolge si può fare chiaramente e lo fa preghiere direttamente a Gesù quindi al Signore Gesù Cristo in quel caso le possiamo riconoscere perché la conclusione è tu che vivi il regno nei secoli dei secoli oppure la conclusione è lunga tu sei Dio e vivi il regno con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli ora qui Gesù gioca come sempre ancora un poco e non mi vedrete un po' ancora e mi vedrete sta chiaramente parlando della sua morte e risurrezione ancora un poco e non mi vedrete perché sarò morto e sepolto un po' ancora e mi vedrete perché sarò risuscitato come sempre questo è un tema tipico del Vangelo di San Giovanni l'abbiamo visto tante volte Gesù parla e i discepoli non capiscono quindi c'è questa sorta di incomprensione perpetua tra quello che il maestro dice e quello che i discepoli capiscono o meglio non capiscono Gesù specifica questa cosa utilizzando ancora una volta un'immagine quella della donna che partorisce dice voi piangerete e vi rattristerete ma il mondo si rallegrerà voi sarete afflitti ma la vostra afflizione si cambierà in gioia quindi ci sono due livelli quello diciamo così universale quindi perché il mondo intero si possa rallegrare a causa della redenzione avvenuta voi dovrete piangere e rattristarvi a causa di ciò che sta a accadere a breve e questa è la dimensione universale c'è anche però quella personale voi sarete afflitti quindi passerete per questa prova ma i primi a vederla trasformata in gioia sarete voi e fare esempio della donna che partorisce e che afflittano qui chiaramente chi è donna lo può capire meglio si deve passare per avere un bambino attraverso le toglie e i travagli del parto ecco che certamente a quanto pare insomma rientrano tra le categorie sicuramente della top 10 ecco dei dolori più intensi che si possano vivere salvo insomma le cose del tutto straordinarie sul pianeta terra i dolori del parto le coliche renali insomma siamo tutti quanti sono tutti quanti ecco belle belle prove ecco però tutte le mamme anche la mia mamma quando c'era me lo raccontava sempre si soffre tanto ma appena vedi quel bambino ti dimentichi di tutto e questo vale sia per Gesù ma vale anche per per gli apostoli se possiamo ecco permetterci qualche cosa varrà anche per noi qui siamo in questa vita terrena siamo nel travaglio nella prova spesso nella tristezza ci sono da attraversare come Gesù spiega come Gesù avverte avrete tribolazione nel mondo ma abbiate coraggio non abbiate paura io l'ho vinto quindi arriverà un giorno ecco in cui arriverà ecco è bello ogni giorno che passa poter dire da credenti un giorno in meno su questa valle di lacrime e un giorno in meno al momento in cui ecco tutto il travaglio ecco tutto il dolore tutta la fatica di questa valle di lacrime diventerà un ricordo che da un lato ce lo ce lo dimenticheremo ma dall'altro sotto certi aspetti se l'abbiamo vissuto bene lo benediremo ecco perché se noi viviamo qui in obbedienza alla volontà di Dio quindi abbracciando con amore tutto quello che il Signore ci mette davanti seguendo le orme del nostro Maestro tutti i travagli che ci attendono e che dovremo vivere anche noi non certamente forse a livello di nostro Signore però nel nostro piccolo avremo anche noi da seguirne le orme e anche noi avremo quella gioia che nessuno ci potrà togliere ecco gli apostoli l'hanno pregustata del giorno della risurrezione noi tutti la gusteremo il giorno in cui entreremo in paradiso e sarà una gioia che più nessuno ci potrà togliere più nessuno anche qui a volte possiamo pregustare qualcosa della gioia celeste quando il Signore ci concede di superare una prova o ci dà qualcuna delle sue belle chicche delle sue belle grazie delle sue consolazioni nell'incontro precedente abbiamo parlato di una delle caratteristiche dello Spirito Santo che appunto deve essere il paraclito colui che ci sta vicino colui che ci consola colui che ci incoraggia un'altra fonte di gioia finora non avete chiesto nulla nel mio nome chiedete otterrete perché la vostra gioia sia piena ecco vedere una nostra bella preghiera esaudita quando il Signore esaurisce esaurisce qualcuna delle nostre suppliche e noi siamo certi che ha esaurito una preghiera perché abbiamo ottenuto esattamente quello che gli chiedevamo abbiamo quella bellissima gioia del dello sperimentare come Gesù ci sia vicino come ci ricolmi delle sue grazie nel versetto 25 Gesù dice ancora un'altra cosa che è anche per noi che ci ricorda una delle caratteristiche della nostra condizione mortale allora qui per quanto noi entriamo in contatto con la rivelazione questo dobbiamo sempre ricordarlo non ne avremo mai una perfetta comprensione non possiamo in questo mondo quindi come San Paolo spiega nelle sue lettere qui la nostra conoscenza e la conoscenza di Dio e delle sue cose è strutturalmente imperfetta è per questo che Gesù parla in similitudini perché non possiamo in questo mondo intendere un discorso fatto a cuore aperto e a non soltanto a cuore aperto a orizzonti chiarificati del padre Gesù spiega che ho detto queste cose in similitudini verrà l'ora in cui non vi parlerò più in similitudini ma apertamente vi parlerò del padre certamente è un'ora che allude al momento in cui potremmo conoscere e vedere il volto del padre perfettamente rivelato a faccia a faccia Gesù ci anticipa il padre stesso vi ama poiché voi mi avete amato e avete creduto che io sono venuto da Dio e poi conclude appunto nel versetto 28 c'è un po' la sintesi di tutto quello che è il Vangelo di Giovanni proprio della struttura del Vangelo di San Giovanni sono uscito dal padre e sono venuto nel mondo ora lascio il padre ora lascio di nuovo il mondo e vado al padre il Vangelo di San Giovanni ricordiamo nei primissimi incontri ce lo siamo detto ha proprio come struttura l'exitus redditus quindi il prologo comincia con questa grande contemplazione di Dio del verbo di Dio cosa fa il verbo di Dio è il verbo un caro factum est è proprio il prologo del Vangelo di Giovanni esce quindi dal padre e viene nel mondo compie prima i sette segni poi l'opera della redenzione attraverso la sua ora e risorge e torna al padre dopo aver compiuto l'opera della nostra redenzione la struttura del Vangelo di San Giovanni è proprio assolutamente conforme a questa linea proprio perché è l'unico evangelista che non parte semplicemente come tutti quanti gli altri i Vangeli partono generalmente o dai racconti dell'infanzia Matteo e Luca oppure molto molto più schiettamente dalla predicazione di San Giovanni in Battista quindi dalle condizioni ci sono le genealogie comunque si si fermano già partono dall'evento dell'incarnazione in atto di compiersi in procinto di compiersi oppure già appena compiuto solo San Giovanni risale al prima quindi al cuore della divinità da cui è uscito Gesù ecco all'affermazione dei discepoli che adesso finalmente credono perché all'affermazione insomma sono uscito dal padre sono tornato rispondono oh finalmente abbiamo capito quello che tu ci dice finalmente quindi adesso crediamo che sono uscito da Dio Gesù lì subito ammonisce adesso credete verrà allora anzi è già venuta in cui vi disperderete ciascuno per proprio conto e mi lascerete solo ma io non solo solo perché il padre è con me dietro queste parole sapete queste sono catechesi bibliche quindi non semplicemente cioè certamente cerchiamo di comprendere bene il testo del Vangelo il senso oggettivo del Vangelo ma ci sono volendo avere un'impronta catechetica sempre dei richiami anche perché per questo sono state date le parole della saga scrittura esistenziale evangeliche nell'ora della prova spesso e volentieri si sperimenta questa umana solitudine chi ci è passato un pochino lo sa a volte è un fatto come dire facilmente constatabile facciamo un esempio se una persona deve affrontare un intervento chirurgico magari molto molto impegnativo eh sì c'è i tuoi familiari insomma sei circondato ti accompagnano in ospedale ti stanno vicino ma poi arriva un momento in cui ti prendono ti spogliano nudo ti portano dentro quel tavolo operatorio prima che ti fanno l'anestesia e tu lì stai stai solo avverti questa solitudine no quando ci troveremo dinanzi a sorella morte sì popolarsi anche che saremo circondati dai nostri cari ma siamo soli può capitare possono capitare dei momenti in cui arrivano delle forme di sofferenze o delle forme di tribolazione che per quanto magari noi ci sforziamo di condividere o di cercarli ci sentiamo come dire non compresi e non perché abbiamo le solite sindrome ecco da da ferite che ci portiamo dietro come certi temperamenti feriti che hanno sempre la sindrome del non essere compreso e del non essere capiti delle volte è un fatto molto molto reale e delle volte è un fatto come dire disposto quantomeno se non voluto da Dio che vuole che la nostra forza ecco per entrare appunto nelle prove nelle tribolazioni sia lui subito dopo aver detto che io non sono solo ma il padre è con me Gesù aggiunge vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me nel mondo avrete tribolazione ma abbiate fiducia abbiate coraggio ecco tarseo è il verbo greco quindi è nella vulgata tradotto con confidite nella vecchia traduzione era abbiate fiducia quindi tarseite è più nel senso di di coraggio io ho vinto il mondo attenzione che attenzione il verbo del di vincere il mondo è proprio nicao è proprio la vittoria da cui deriva niche no la marca la celebre marca sportiva nike si dice in inglese nike ma in greco quella è l'inglesizzazione del termine greco niche che significa vittoria da cui il verbo nicao nicao è una vittoria d'accordo attenzione qui il verbo si trova al tempo perfetto cioè allora Gesù ha cominciato a vincere il mondo da quando si è incarnato lo ha vinto ininterrottamente per tutta la sua vita terrena e lo sta vincendo anche ora questo è proprio la bellezza del verbo perfetto è come il che carito mene dell'annuncio dell'angelo a maria quindi è la stessa identica cosa lo sta vincendo ancora e lo vincerà quindi e lo vincerà definitivamente con la morte di croce quindi è bellissimo questo questo tempo quindi la vita di Gesù è stato un vincere continuamente attenzione il cosmon non questo è un'altra cosa che chi vuole approfondire chiaramente deve seguire anche le puntate precedenti del mangio di san giovanni cosmon in san giovanni ha due o a volte tre accezioni cosmon può voler dire come dire l'universo ordinato quindi il cosmos cosmon cosmon può voler dire questo mondo in quanto creato da dio e questa è una cosa buona ma cosmon ed è qui ed è questa l'accezione in cui lo usa qui Gesù può indicare il mondo in quanto dominato dal principe di questo mondo come Gesù lo chiama e che giace sotto il potere del peccato come san giovanni scrive non nel vangelo ma nelle sue lettere sì ecco questo mondo deve essere combattuto e questo mondo deve essere vinto e san giovanni nelle sue lettere avrebbe detto non amate il mondo nelle cose del mondo perché se uno ama il mondo quindi il mondo in quanto opponente sia dio il mondo schiavo della triplice concupiscenza la concupiscenza degli occhi la concupiscenza della carne la superbia della vita è il nemico di dio non ci può essere la pace tra i cristiani e questo mondo vi ho detto queste cose dice Gesù perché abbiate pace in me attenzione anche qui vi ho detto di nuovo si trova l'indicativo perfetto cioè Gesù sta rievocando tutto quello che ha detto loro in tutta la vita quindi perché il perfetto è un'azione che è cominciata nel passato e sta continuando nel presente quindi rievocate tutto quello che vi ho detto per trovare la pace in me la pace non si trova nel mondo noi la pace la troviamo nel signore e nella sua parola se ci pensiamo bene dov'è che si trova la pace la pace si trova riposando in dio nella sua fedeltà nella sua bontà nella sua promessa quello che Gesù dice qui è proprio uno dei punti chiavi per trovare la pace nel mondo avrete tribolazioni sì piccole medie grandi forse anche grandissime ma abbiate coraggio io ho vinto voi con me io ho vinto sottointeso voi con me quindi state sereni state tranquilli bene detto questo possiamo introdurci facciamo in tempo sì credo proprio di sì al capitolo diciassettesimo la bellissima preghiera sacerdotale che chiude il con cui si chiude definitivamente il discorso da dio è finito questa è la preghiera sacerdotale che è un pochino l'appendice ci si trova ancora nel cenacolo terminata questa preghiera come vedremo nel primo versetto del capitolo diciotto escono dal cenacolo e si avviano verso l'orto del Gezzemani e comincia proprio l'ora l'ora della passione allora leggiamo il capitolo diciassette la traduzione è sempre l'ultima della della cei così parlò Gesù poi alzati gli occhi al cielo disse padre è venuta l'ora glorifica il figlio tuo perché il figlio glorifici te tu gli hai dato potere su ogni essere umano perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato e questa è la vita eterna che conoscano te l'unico vero dio e colui che hai mandato Gesù Cristo io ti ho glorificato sulla terra compiendo l'opera che mi hai dato da fare e ora padre glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo erano tuoi e li hai dati a me ed essi hanno osservato la tua parola ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato io prego per loro non prego per il mondo ma per coloro che tu mi hai dato perché sono tuoi tutte le cose mie sono tue e le tue sono mie ed io sono glorificato in loro io non sono più nel mondo essi invece sono nel mondo io vengo a te padre padre santo custodiscili nel tuo nome quelli che mi hai dato perché siano una cosa sola come noi quando ero con loro io li custodivo nel tuo nome quelli che mi hai dato e li ho conservati e nessuno di loro è andato perduto tranne il figlio della perdizione perché si compisse la scrittura ma ora io vengo a te dico questo mentre sono nel mondo perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché essi non sono del mondo come io non sono del mondo non prego che tu li tolga dal mondo ma che tu li custodisca dal maligno essi non sono del mondo come io non sono del mondo consacrali nella verità la tua parola è verità come tu hai mandato me nel mondo anche io ho mandato loro nel mondo per loro io consacro me stesso perché siano anch'essi consacrati nella verità non prego solo per questi ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola perché tutti siano una cosa sola come tu padre sei me e io in te siano anch'essi in noi perché il mondo creda loro perché siano una cosa sola come noi siamo una cosa sola io in loro e tu in me perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me padre voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io perché contemplano la mia gloria quella che tu mi hai dato poiché tu mi hai amato prima della creazione del mondo padre giusto il mondo non ti ha conosciuto ma io ti ho conosciuto questi sanno che tu mi hai mandato e io ho fatto conoscere loro il tuo nome che lo farò conoscere perché l'amore con il quale mi hai amato si è in loro abbiamo un pochino di tempo per cercare di fare un esegesi esaustiva di questo lavoro assoluto veramente splendido proprio meraviglioso se tutto faccio notare una cosa avremmo fatto caso durante la lettura perché dobbiamo anche vedere le nostre reazioni immediate a quante volte ricorre la parola mondo e a quanto Gesù di nuovo ancora sia tassativo nel porre questa dicotomia questa distinzione tra lui e i suoi e il mondo voi non siete del mondo come io non sono del mondo io vi ho scelti dal mondo e vi ho inviati nel mondo ma voi non siete del mondo allora il senso di queste parole è che Gesù prende alcune persone e li tira fuori dal mondo appunto soggetto al potere delle tenebre perché lo scopo di Gesù è tirare fuori da lì per poi inviare a tirare fuori qualcun altro da lì però c'è una parte del mondo e questa la conosce soltanto Gesù che non si lascerà tirare fuori ecco perché a un certo punto Gesù dice quell'espressione che qualcuno non capisce e si scandalizza dice non prego per il mondo ma per coloro che mi hai dato perché sono tuoi che cosa intende qui Gesù versetto 9 io prego per loro non prego per il mondo ma per coloro che mi hai dato perché sono tuoi nel mondo ci sono i figli della perdizione purtroppo rappresentati nel come dire nel prototipo nel principe dei figli della perdizione che è Giuda per questi non c'è preghiera non prego per il mondo ma per coloro che mi hai dato perché sono tuoi è una realtà misteriosa questa qui ma reale purtroppo nel mondo di ogni luogo di ogni tempo anche adesso ci sono anche se noi non possiamo sapere chi sono il nostro compito certamente nel padre nostro noi a differenza di Gesù non sappiamo chi sono gli inconvertibili quelli che si ostineranno nel male quelli che faranno uno o più peccati contro lo spirito santo per cui non 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 arriveranno all'eterna salvezza non perché Gesù non ce li voglia o perché ci sia qualcuno che non sia di per sé per quanto riguarda la volontà di Dio destinato alla salvezza ma perché saranno cuori induriti appunto figli della perdizione persone che nel mondo dominato dal maligno sono e hanno voluto rimanere allora attenzione a quando Gesù dice glorifica il figlio tuo perché il figlio glorifichi te adesso qui si comincia a parlare dell'ora padre è giunta l'ora questo è tutto quanto qui siamo proprio al cuore di uno degli snodi fondamentali del Vangelo abbiamo visto come il Vangelo di San Giovanni è chiaramente distinguibile in due sezioni la prima chiamata dalla maggioranza degli eseggeti il libro dei segni con i sette segni intervallati dai lunghi discorsi di Gesù dalla prima parte del Vangelo quindi dalle nozze di Cana che è il primo segno alla risurrezione di Lanzaro che è l'ultimo e poi la seconda parte che è appunto il libro dell'ora padre è giunta l'ora è giunta l'ora e attenzione qui ci abbiamo un indicativo perfetto anche qua attivo è giunta l'ora attenzione quest'ora guardate che i verbi in greco sono veramente uno spettacolo anche qui l'ora di Gesù non è cominciata il giovedì santo lì ha trovato il culmine come dire la vetta lo sbocco il compimento ma l'ora di Gesù e questa la dicevano già lo diceva già Santa Teresa Davila ma ce l'ha detto anche Gesù per esempio nelle rivelazioni del Sacro Cuore l'ora di Gesù è cominciata allo stesso istante del suo concepimento perché la croce dentro il cuore di Gesù è stata piantata non dopo che i chiodi sono stati infilati dentro le sue carni ed è morto quindi da quel momento ha conosciuto la croce ma l'ha conosciuta da subito tante rivelazioni ecco Santa Margherita le ore della passione di Luisa Piccarreta per esempio dove Gesù addirittura dice la passione che ho vissuto in confronto alla passione interiore a quella perpetua in cui il padre mi ha tenuto con i fragelli di fuoco i chiodi di fuoco è stata meno che nulla certamente da un punto di vista esteriore è stato il culmine e lo sbocco ma si tratta di cose molto profonde e di misteri molto grandi no? ricordiamo anche un altro tema che la glorificazione del figlio se glorifica il figlio tuo perché il figlio glorifichi te allora la glorificazione del padre certamente sul figlio avviene con la risurrezione ma la glorificazione del padre da parte del figlio dove avviene è avviene sulla croce cioè Gesù adempie la sua missione di dare al padre la massima gloria possibile di restituirgli tutta quella gloria che le creature col peccato la gloria accidentale gli hanno tolto immolandosi alla croce San Paolo avrebbe detto obbediente fino alla morte e alla morte di croce cioè un sacrificio perfettissimo che oltre più grande di quello non poteva essere offerto al pare secondo versetto tu gli hai dato potere sopra ogni essere umano sopra ogni carne letteralmente sarcos e anche qui sopra ogni essere umano sopra ogni sarcos sopra ogni essere umano che si trova nella condizione di natura decaduta è diventato carne sarcos perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato coloro che tu gli hai dato questo è un'altra ricorrenza questo è un mistero cioè attenzione che dinanzi a Dio abbiamo tantissimi misteri coloro che tu gli hai dato per esempio cioè questo è un dato di fatto noi non comprendiamo queste cose cioè adesso siamo 7 miliardi sul pianeta terra no quanti sono i cattolici 1 miliardo e 2 1 miliardo e 3 non mi ricordo e gli altri 5 miliardi e mezzo e oltre dove stanno come mai non sono entrati a far parte della chiesa dipende da colpa nostra che non abbiamo evangelizzato abbastanza misteri a coloro che tu gli hai dato però Gesù vuole dare la vita eterna e che cos'è la vita eterna oh che cos'è la vita eterna vogliamo gustare la vita anche qui che conoscano te l'unico vero Dio e colui che hai mandato Gesù Cristo qui io adesso faccio un rimando oggi è il secondo mercoledì del mese il quarto mercoledì del mese quest'anno se Dio vuole ci occuperemo del Catechismo di San Pio X la prossima puntata del Catechismo di San Pio X sarà proprio un approfondimento di Giovanni 17.3 perché introdurremo quel celeberrimo numero perché ci ha creato Dio Dio ci ha correlato per conoscerlo amarlo e servirlo in questa vita e per goderlo nell'altro la conoscenza questa è la vita eterna attenzione tutti coloro che non si adoperano non dedicano tempo energie passione alla conoscenza di Dio e di colui che ha mandato Gesù la vita eterna non la conoscerà cioè la vita che non conosce la morte cioè la felicità che non conosce possibilità di alterazioni la pace che non conosce possibilità di essere sopraffatta e vinta dal contrario della pace quindi dal turbamento dall'angoscia non la conoscere mai la vita eterna è questa è questa è facile capirlo perché no? perché il Vangelo di San Giovanni in lui era la vita e la vita era la luce degli uomini torniamo al prologo no? la luce spende nelle tenebre ma le tenebre non l'hanno sopraffatta era la traduzione più adatta no? conoscano te e colui che hai mandato Gesù Cristo allora prosegue Gesù io ti ho glorificato sopra la terra compiendo l'opera che mi hai dato da fare la gloria che si deve rendere a Dio probabilmente ho già parlato di questa cosa negli incontri biblici precedenti non li posso ricordare tutti quanti se ripeto facciamo che ripetita Juvent in Dio ci sono diciamo così due glorie c'è la gloria intrinseca di Dio cioè la sua maestà infinita la sua stessa essenza e natura divina gloria in greco è doxa in ebraico è kaved kaved è bellissimo perché kaved significa kavod anzi che gloria kavod che viene dal verbo kaved che significa letteralmente pesare essere pesante quindi la gloria è il peso specifico di Dio è ciò che per cui Dio è ciò che è qualche cosa di immenso di infinito quella gloria Dio ce l'ha è sua nessuno gliela può aumentare o diminuire e nessuno gliela può toccare né tantomeno gliela può togliere ora però c'è una gloria che tecnicamente in teologia si chiama gloria accidentale e di questa sta parlando adesso a Gesù perché Gesù nella sua natura romana ha dato gloria al Padre e come io ti ho glorificato sopra la terra come compiendo l'opera che mi hai dato da fare come diamo gloria a Dio facendo la sua volontà cioè quando l'uomo fa la volontà di Dio gli dà gloria nel senso che gli dà da a Dio quello che gli deve dare in quanto creatura e quello che a Dio spetta in quanto creatore se questo non glielo dà la creatura toglie a Dio o la gloria essenziale quella che si chiama la gloria accidentale cioè quello che la creatura deve rendergli in contraccambio ora mentre le creature non intelligenti la gloria a Dio gliela rendono per il semplice fatto di essere e di fare ciò per cui sono state programmate da Dio stesso quindi fanno semplicemente l'acqua fa l'acqua il sole fa il sole l'albero fa l'albero il cane fa il cane il gatto fa il gatto eccetera eccetera noi facciamo gli uomini per noi fare gli uomini non è semplicemente un programma perché noi abbiamo la libertà noi dobbiamo scegliere di fare gli uomini e le donne non è automatico che lo facciamo e non soltanto perché adesso stiamo vivendo in tempi dove si parla del gender si parla del fluido se non mi va di essere uomo divento donna e viceversa che problema c'è questo è un problema molto posteriore noi dobbiamo fare gli uomini nel senso di imparare ad esercitare bene la nostra libertà per poter dare gloria a Dio ecco dice io ho fatto questo dice e ora padre glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse prima che il mondo fosse cioè mi sono mortificato adesso non ne parliamo adesso arriverà l'ora della della passione in cui mi annienterò ma poi quella gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse dovrà rifuggere nella potenza della risurrezione e con questo si chiude la prima parte della preghiera sacerdotale al versetto 5 versetto 6 attenzione ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo quindi c'è questa estrazione proprio ec tu cos mu dal mondo sono stati tolti per essere dati a Gesù erano tuoi perché tutte quante le creature sono come dire di proprietà divina me li hai dati li hai dati a me attenzione bellissimo qui qui il verbo si trova non al perfetto ma all'auristo cioè c'è un momento preciso del passato in cui questi uomini sono passati dall'essere del mondo ad essere di Gesù nella nostra vita ci può e per quanto riguarda Dio ci deve essere un momento in cui c'è un passaggio dal mondo a Dio è un momento preciso un momento di svolta un momento determinato da qui a qui e attenzione li hai dati a me ed essi hanno osservato tereo in greco servo in latino la tua parola adesso vedete in italiano questo non si capisce perché è tutto tradotto al passato prossimo tu li hai dati a me ed essi hanno osservato la tua parola attenzione tu li hai dati a me sta all'auristo un'azione puntuale che si è verificata in un dato momento preciso e lì si è verificata e lì si è compiuta e lì è finita ecco il momento ricordate quando San Giovanni e qui andare indietro nel capitolo 2 del Vangelo di San Giovanni racconta erano circa le 4 del pomeriggio lui lo ricorda molto bene il giorno in cui Gesù l'ha preso e l'ha tolto dal mondo a lui e ad Andrea che sono stati i primi due discepoli di Gesù tutti quanti particolari che ci narra soltanto Giovanni però hanno osservato la mia parola a tornare un'altra volta il verbo ormai stasera abbiamo imparato al perfetto cioè da quando mi hanno incontrato hanno cominciato ad ascoltare ad osservare la tua parola e lo stanno facendo anche adesso e continueranno a farlo nonostante la debacle prossima che sta per arrivare e che tra poco il Signore gli avrebbe predetto ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro essi le hanno accolte accogliere la parola e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato e poi c'è la frase io prego per loro non prego per il mondo qui attenzione parla del mondo che giace sotto il potere delle tenebre e che lì resterà l'ho già accennato prima per cui non mi dilungo troppo prego per coloro che mi hai dato perché sono tuoi tutte le cose mie sono tue e tutte le cose tue sono tutte le cose mie sono tue tutte le cose tue sono mie e attenzione ed io sono glorificato in loro è una cosa bellissima perché sono glorificato in loro anche qui di nuovo il verbo un'altra volta al perfetto perché gli apostoli i discepoli nonostante la loro ancora momentanea imperfezione che non è affatto dissimulata nel mangiamento di San Giovanni è uno degli elementi chiave Gesù parla questo è fatto molto molto frequente e loro non capiscono il discorso con la samaritana ma rabbì mangia dice ho da mangiare un cibo che non conoscete e dice ma forse qualcun altro gli ha dato da mangiare e poi Gesù subito è il mio cibo a fare la volontà di quello che mi ha mandato insomma no Gesù sta sempre su un piano sopra al di là e gli apostoli fanno fatica stanno sempre al di qua però ci hanno provato hanno lasciato hanno investito e mettendo Gesù al primo posto come loro signore gli hanno dato gloria allora Gesù dice io non sono più nel mondo già si proietta ormai è finita però loro sono nel mondo e custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato primo riferimento perché siano una cosa sola come noi sappiamo benissimo che la preghiera sacerdotale trova nell'unità soprattutto negli ultimi versetti ma qui comincia a comparire per la prima volta essere una cosa sola come noi la grande unità della Chiesa che poi viene ad essere una delle quattro note della Chiesa la Chiesa una Santa Cattolica Apostolica una da intendere sia nel senso che di Chiesa di Cristo ce n'è una ma sia nel senso che la Chiesa di Cristo in quanto tale è unita e attenzione che l'unità nella Chiesa dato che qui Gesù ne parla si realizza attraverso delle cose ben precise noi non siamo tutti quanti uguali abbiamo grazie a Dio una diversità gli uni dagli altri ma dov'è l'unità della Chiesa che non può essere spezzata primo primo l'unità nella fede l'unità nella nella verità nessuno può allontanarsi da questo secondo l'unità nella vita di grazia nella vita sacramentale nessuno si può inventare un sacramento in più o nessuno può togliere un sacramento dai sette terzo l'unità nel senso che la Chiesa è un corpo ordinato guidato dai successori degli Apostoli e dal successore di Pietro con i quali va mantenuta e salvaguardata l'unità allora qui Gesù spiega quando ero con loro questo l'ha già detto prima dice io è bene per voi che io me ne vada perché se non me ne vado non verrà il paraclito cioè me ne devo andare ma non vi lascio orfani tornerò da voi non soltanto con la risurrezione questo l'abbiamo visto negli incontri precedenti ma con il dono dello Spirito Santo che continuerà a fare in voi quello che ho fatto io quando ero ancora con voi io conservavo nel tuo nome che andavo con loro con loro che mi hai dato e nessuno è andato perduto tranne quello che si è voluto pervertire profetizzato dalla scrittura attenzione attenzione cioè qui Gesù attenzione teniamo sempre presente che il destino come è comunemente inteso dagli esseri umani non esiste d'accordo perché la libertà dell'uomo è sempre un fatto reale non tangibile però se una cosa sta scritta nella scrittura quindi profetizzata non si può non compiere perché non perché il soggetto o l'oggetto della profezia come dire sia irreversibilmente votato a quello ma perché Dio conosce da prima l'esito della liberazione cioè quello che Gesù ha vissuto con Giù è stata una cosa incredibile perché lui in quanto Dio sapeva che Giuda apparteneva a quel numero degli inconvertibili che si sarebbe dannato non c'era niente da fare però Gesù nella sua santissima umanità ha dovuto trattare Giuda come se non sapesse niente quindi l'ha accolto nel gruppo apostolico lo ha mandato a predicare lo ha mandato a fare miracolo addirittura era anche presente nell'ultima cena gli ha pure lavato i piedi Gesù ha sentito cioè Giuda non ha sentito questo discorso ma fino all'ultimo fino all'eucaristia alla banda dei piedi c'è stato il misterium iniquitatis ecco ma ora io vengo a te dice Gesù e dico queste cose mentre sono ancora qui perché abbiano in se stessi la pienezza della gioia quindi questa è la vita eterna conoscere te e colui che hai mandato quindi sentire queste cose da parte di Gesù significa avere in se stessi ancora una volta questo termine la pienezza pleroe in greco e la gioia la gioia piena c'è un salmo bellissimo no mi indicherai il sentiero della vita gioia piena alla tua presenza che la gioia che nessuno può togliere vi vedrò di nuovo e la vostra gioia sarà immensa e nessuno vi potrà togliere la vostra gioia io ho dato a loro la tua parola prosegue Gesù e il mondo li ha odiati perché essi non sono del mondo come io non sono del mondo allora la volta scorsa abbiamo visto se il mondo vi odia sappiate che prima di voi ha odiato me noi amici miei fratelli e sorelle carissimi per noi essere odiati dal mondo è un punto d'onore è un vanto perché il mondo non ci può amare perché nel mondo c'è il diavolo e se ti amano quei mondiani vuol dire che ti riconoscono come simili a loro quindi è un vanto non prego che tu li tolga dal mondo ma che li custodisca dal maligno tutti abbiamo bisogno di essere custoditi dal maligno perché non ci passano e ancora Gesù continua essi non sono del mondo come io non sono del mondo prosegue prosegue adesso qui adesso non voglio tante cose che si sentono anche oggi in certi ambienti anche ecclesiali la chiesa non può essere chiaciona nei confronti del mondo non può livellarsi non può cedere non può scendere a patti a compromessi con il mondo non si può non è possibile guardate quanto Gesù incalza essi non sono cioè il verbo essere del mondo come io non sono del mondo e poi consacrali nella verità la tua parola è verità noi siamo consacrati nella verità cioè noi allora la verità per noi è una delle cose più importanti in assoluto che esistono sulla verità non ci sono mai compromessi la verità dobbiamo portarla avanti certamente nella carità ma sulla verità non c'è possibilità di scendere al compromesso con niente e con nessuno consacrali dice Gesù nella verità il verbo greco è aghiason santificali nella verità quindi la verità è il primo strumento fondamentale anche per la santificazione e poi come tu hai mandato nel mondo anche io li ho mandati nel mondo e per loro io consacro me stesso anche qui aghiazzo stesso verbo di prima per loro io santifico me stesso perché siano anch'essi santificati consacrati ma meglio sarebbe dire santificati nella verità la letria la letria poi Gesù prega anche per tutti loro che per loro parola crederanno in me eccetera eccetera no e poi conclude dicendo io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere perché l'amore con il quale mi ha andato se ne sia in loro rimaniamo con queste considerazioni prima di affrontare la passione noi non siamo né del mondo noi siamo santificati consacrati nella verità presi dal mondo dovendo custodirci dal maligno e e tutti di Gesù e incamminati verso la vita eterna in una conoscenza sempre maggiore del padre e di quello che ha mandato Gesù Cristo suo figlio e nostro Signore bene se Dio vuole ci vediamo nel prossimo mese e stavolta andremo nei gezzemani cominciando a seguire proprio Gesù nell'ora della sua passione Dio vi benedica e la Madonna sempre vi protegge alla prossima